Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua come promesso per spiegarvi bene come funziona il mio mercatino online quest'anno. Allora, gli altri anni ho fatto di tutto per fare un mercatino di Natale nel mio paese, nella città vicina che è Sassari, però purtroppo quest'anno i centri commerciali non hanno spazio per me, il mio paese non organizza mai niente, poi si lamentano che tutti se ne vanno da un'altra parte, allora ho pensato bene di arrangiarmi un po' da sola. Quindi ho organizzato questo mercatino virtuale dove comunque voi potrete scegliere tutte le cose che io ho in vendita tramite foto, anche dei video tipo questo, perché comunque secondo me per alcune cose serve un video in modo che la possiate vedere un po' meglio, lo so che non è la stessa cosa di toccare con mano, però vabbè è un mercatino virtuale, del resto poi a chi non piace pazienza. Anche su Facebook c'è il profilo di Fata Nera, quindi qua sotto sicuramente vi metterò il link e andrete direttamente al profilo Facebook, lo troverete comunque anche nel mio canale, non solo qua sotto nella descrizione, lì c'è già direttamente un pulsante che vi manda direttamente al profilo Facebook. Comunque allora lì troverete sicuramente tutte le foto di quello che ho nel mercatino, c'è l'evento, l'evento che vi riporta alla pagina, la pagina che si chiama proprio mercatino di Natale, dove li sto pubblicando tutte le cose che sto realizzando. Per quanto riguarda i prezzi, adesso credo sia il caso di andare su Facebook e guardarli tutti i libri, spero che andiate a vedere questo mercatino online, spero che vi piaccia e grazie comunque di seguirmi così numerosi come da tanti anni, grazie mille, ciao!